Resta alta l'attenzione sulla chiusura dei punti nascita a Polla e Sapri. Sulla questione arrivano le rassicurazioni della Regione Campania tramite l'Avvocato Franco Alfieri, capo staff del Presidente dell'Aggiunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. Ma i sindacati e rappresentanti delle amministrazioni locali aspettano atti concreti. Il 27 novembre alle 12.30 si rivolgerà alla quinta Commissione Sanità della Regione Campania, una seduta di audizioni riguardo alla disattivazione dei punti nascita negli ospedali di Polla e di Sapri. Quando si chiude un qualche cosa c'è sempre un momento di tensione, la Regione ha riproposto al Governo centrale la deroga, però è un dato di fatto. C'è una norma nazionale che prevede la chiusura per i punti nascita inferiore a 500 bambini. La Regione ha chiesto la deroga, ma il Presidente De Luca ieri sera ha ribadito che a questo bisogna però anche salvaguardare la sicurezza delle strutture sanitarie. Noi non possiamo a volte salvaguardare la sicurezza quando ci sono strutture che servono per pochi. Quindi una riflessione rigorosa, vera. La Regione ha chiesto la deroga, ma a questo bisogna anche preservare la sicurezza e soprattutto che quando un cittadino arriva in una struttura sanitaria trova servizi efficienti. Quindi la Regione chiede la deroga, ci auguriamo che lo Stato risponda con serietà e non con la propaganda, non con la polemica, non con l'arroganza, con una propaganda che ormai ha stancato un po' tutti e con le risposte adeguate. Lo Stato batte ritirata rispetto a tutti i campi, rispetto a tutti i servizi. La Regione risponde con delle cose concrete. Oggi il Governatore è stato a Roma proprio sulla questione commissarie Vento, sui LEA, ci auguriamo che si ritorni con risposte concrete e che siano utili a tutto il territorio campano. Grazie.